buonasera ragazzi ma quando io parlo di juve inaccettabile o indifendibile non mi riferisco al fatto o meglio mi riferisco al fatto che questa qui era una partita da chiudere da chiudere subito cioè lo so anch'io che poi la juve ha preso il doppio palo con chiesa la traversa con di maria ha creato un'altra occasione nel finale c'è stato questo rigore sacrosanto non dato siamo perfettamente d'accordo questi sono episodi che si sono verificati dopo che il nante ha pareggiato cioè io non sto dicendo che la juve poi non ha creato i presupposti per vincere la partita ma li ha creati dopo li ha ancora più riflettere no cosa significa che la juve ha avuto bisogno ancora una volta di uno schiaffone per poter reagire per poter far vedere che c'era tutta questa differenza di tasso tecnico tra i tra tra lei cioè la juve e il nante è questo che fa specie ossia il fatto che dopo il gol dopo il gol del vantaggio la juve non sia andata subito alla ricerca del secondo gol ma che si sia abbassata favorendo il graduale avanzamento del nante che poi è vero che non ha creato grosse occasioni se non quella del gol nata da un errore tecnico da una da uno scivolone di bremer perché lì comunque tatticamente non era messa male la juve no uno prendeva la corsa di un giocatore bremer doveva chiudere su blas quello che ha poi assegnato ma non è riuscito a chiudere come ha fatto poi successivamente perché è scivolato mettiamoci dentro tutto ma il non vedere la juve che contro una squadra tredicesima nella classifica ligan non riesce a chiudere la partita è questo che dico è per questo che dico che è indifendibile che è inaccettabile questo intendo poi lo so grazie l'ho visto anch'io che ha creato delle occasioni l'ho visto anch'io che chiamiamola sì forse sfortuna quella sul voi sapete cosa ne penso io pali e traverse sono tiri sbagliati però effettivamente quello di 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 chiesa è incredibile no traversa riga palo e la pala torna in campo cioè ma è così quando parlo di 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 annate in un certo che vanno in un certo modo che quando tu diciamo non riesce a chiudere la partita poi anche anche gli episodi ti girano a sfavore non so come spiegarmi ragazzi in questo momento il napoli sta andando bene tutto se il napoli avesse sciaguratamente preso il vantaggio il pareggio del del nante il tiro di chiesa l'avesse effettuato politano rosimè chi volete voi prendeva travesse interno andava dentro oppure travesse interna riga palo schiena nel portiere andava dentro con la juve non succede non succede ma non mi sto aggrappando a nulla sto solo dicendo che guarda caso segna il nante la juve un minuto e mezzo dopo potrebbe tornare in vantaggio allora mi chiedo perché un minuto e mezzo dopo il gol di blavis non si è provato a chiudere la partita è questo che mi ha fatto specie per questo dico indifendibile inaccettabile e lo dico onestamente il fatto che ieri allegra vi ha detto abbiamo la partita ha dimostrato che non è facile l'europa league ma nessuno dice che è facile l'europa league però contro il nante la puoi rendere meno difficile che rispetto ad altre ad altre squadre no hai di fronte lo united il barcelona e due che si sono scontrate ieri lo so anch'io che non è facile col nante non voglio dire che sia facile ma non sarebbe stato così difficile capite il senso del discorso per cui no cioè e al di là di questo ragazzi non penso che allegra abbia detto i suoi state dietro adesso chiudetevi adesso difendiamo il vantaggio lì è anche un fatto di 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 mentalità però è vero che anche la mentalità la deve costruire l'annatore cioè ci sono tanti fattori allegri va benissimo in questo momento per portare fuori la juve da questa situazione per gestire questa situazione poi verranno fatte le valutazioni ma è da un po che ve lo sto dicendo poi verranno fatte le valutazioni questo fa parte del programma futuro che la società vorrà darsi anche dal punto di vista della guida tecnica ma io non sto dicendo che allegri non sbaglia niente ma non ho mai detto che allegri non sbaglia niente secondo me ieri per esempio io di maria l'avrei tenuto in campo perché comunque è quello in grado in situazioni di questo genere magari di inventarti qualche cosa a rigore ragazzi non aggiungo nulla cioè con più lo guardo e con più dico che è stata una roba vergognosa ma lo dico francamente vergognosa non so se avete sentito radio sportiva anche l'arbitro bonfrisco oggi l'ex arbitro che ha detto che era un rigore evidentissimo perché bremer non è che appoggia le braccia le mani sulle spalle di sento a sé per hissarsi era già in alto le appoggia in ricaduta non non è è un prendere posizione è normale poi dove le mette ste braccia cioè ma non è che va a spingere è veramente un'interpretazione pazzesca quella dell'arbitro pazzesca quello era un rigore grosso come la casa e giustamente dice bonfrisco era anche giallo per il giocatore perché impedisce al pallone di andare in porta quindi questa è una cosa pazzesca ma che non sia alibi ma di fatti non l'ho voluto essere nelle parole di allegri né quelle di danilo e di nessun protagonista io volevo parlare però di desiervo e di calvo parto da quest'ultimo da calvo ha detto prima della partita ieri che la juve non teme nulla in europa perché comunque in ogni caso prima si devono concludere i procedimenti sportivi e che è assolutamente convinta che la sentenza dei 15 punti sia totalmente ingiusta e quindi ci siano delle fondate speranze per fare in modo che i punti non siano più 15 che o che non ci siano proprio che il tutto rimandato alla corte d'appello federale si possa rivedere e riformulare questo tipo di condanna quindi c'è un una sensazione di ottimismo legata a tutto ciò desiervo ragazzi desiervo parla non a nome proprio ma a nome della lega è l'amministratore delegato la lega parla in rappresentanza o comunque esprime più o meno l'orientamento di tutte le altre squadre nel senso che qua non è stato non è successo come in inghilterra ma l'ho già detto che tutti si sono schierati contro il pari il manchester city qua nessuno si è schierato qualche parolina la prova ve l'ha detto a commisso ma non ho non ho notato questo clima ostile quindi al di là del fatto di chiedersi perché è un dato di fatto ma non c'è stato questo tipo stile ma ragazzi ma avete letto quanto si è indebitato il calcio durante il covid un miliardo e duecentomila euro di mancati guadagno di indebitamento adesso non mi ricordo comunque di giri di soldi mancati ok e tutte le società hanno dovuto far fronte a questa situazione in quel periodo ok mi pare di essere commisso ok e c'è la questione dei diritti televisivi io ve lo dico fuori dai denti e non c'è stata la proroga dei due anni si andrà di nuovo all'asta una juve lo dico è una juve che finisse in serie b ragazzi è crollo è dei diritti televisivi ve lo dico è lo dico non ci sarebbe più un'offerta importante per le società calcistiche ma non è c'è una situazione di fatto è una situazione di fatto le parole di desiervo sono la denuncia di una situazione molto grave a livello di di lega di serie a molto grave rifletteteci un miliardo e duecentomila euro ha perso il calcio italiano con il covid e tutti hanno dovuto pagare gli stipendi andare avanti a pagare gli stipendi perché l'altra denuncia cos'è che i calciatori non hanno rinunciato nella stragrande maggioranza quindi sono stati pagati nonostante un miliardo e duecentomila euro di indebitamento o di mercato introtto iscrivetevi al canale ci vediamo domani a domani ciao